Siamo in Romania e siamo qui per provare la nuova gamma enduro KTM, cioè le EXC 2015. Le moto sono esteticamente molto accattivanti e nonostante non ci siano grandi novità tecniche ci sono stati fatti tanti piccoli interventi per rifinire il prodotto al 100%. Noi siamo lo stesso davvero molto molto emozionati perché la location è quella del Red Bull Romaniacs. Il tempo non ci aiuta e oggi sarà una giornata veramente lunga.